Tutti almeno una volta l'abbiamo provata, l'invidia, il sentimento inconfessabile che nel purgatorio dantesco toglie la vista alle anime che guardano contro con sguardo maligno, un vizio universale, perenne e più che mai attuale. Bi-humor continua così a navigare nelle profondità oscure dell'animo umano e dopo il focus sull'odio dell'edizione 2020 intende esorcizzare attraverso il male l'arte dell'anima e dell'ironia. In un anno che è stato difficilissimo e doloroso, come dichiara il direttore artistico Evio Erma Sercoli, che ha cambiato i rapporti sociali, le relazioni e il nostro stare nel mondo, il festival intende offrire la leva della risata amara per capire se davvero ne siamo usciti migliori o se invece quelle espressioni di crudeltà dell'animo siano anche più scese nelle viscere e pronte ad esplodere, perché se una risata può sepperlirci può anche riportarci in superficie. Ancora una volta sarà a Tolentino la sede del festival che si svolgerà nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre 2021. Il concorso è aperto e c'è tempo per gli artisti fino all'11 ottobre prossimo per inviare le proprie opere a Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, Palazzo Europa, via Tambrone numero 4, 62029 Tolentino, oppure per email a info-biennaleumorismo.it. Il regolamento del concorso è disponibile sul sito ufficiale www.biumor.com